Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale. Un bacio da Michele. Oggi faremo un nuovo video. Faremo tre scherzi che potete fare con i vostri amici. Allora, per prima dobbiamo prendere un bicchiere di plastica e delle forbici. Andiamo a fare un cerchio. E ci dobbiamo mettere dopo il pollice dentro. E lo facciamo filtrare. Poi, quando avete finito, fate così, così almeno i vostri amici non potranno vedere com'è il trucco. Il secondo trucco è che dobbiamo prendere un canapaccio e io ho preso un tovagliolo. Lo rotoliamo così e lo rotoliamo anche il canapaccio. Quando abbiamo fatto questo qua, dobbiamo stare molto vicino alla fine del tavolo, così almeno il tovagliolo cade. Lo rotoliamo e facciamo cadere il tovagliolo. E poi il canapaccio lo rimettiamo in questo modo. E al nostro amico lo facciamo vedere così e così. Alla fine del trucco buttate il tovagliolo che sta per terra e lo buttate. L'ultimo trucco ci serve un giacchettino e poi una maglietta e sotto un'altra maglietta. Allora, vi faccio vedere come cambia questa maglietta. La dobbiamo mettere così e dobbiamo coprire tutta la maglietta che sta sotto. Così almeno facciamo vedere l'altra maglietta. E quando vogliamo rifarvi vedere l'altra maglietta, ci nascondiamo da un punto e la rimettiamo come la prima. In modo che non lo vede nessuno. Questi due trucchi spero che vi sono piaciuti. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!